Giovani per il rugby, stiamo qui a Borgo Rivo, c'è una manifestazione per la categoria Under 14 per quanto riguarda il rugby Terni, il sesto torneo Santo Valentino, ci sono presenti otto squadre, sei squadre che vengono da Lazio e due Umbre, noi il Terni e il Perugia. E' una festa dello sport, ci sono circa 220 ragazzi che si alternano sui campi, fino a oggi pomeriggio alle 4 quando è prevista la finale, seguirà la premiazione alle 16.30 e sarà sicuramente un giorno per il quale i ragazzi ricorderanno questa giornata. Finalmente dopo 7 anni di vari traslochi, finalmente quest'anno si è riuscito ad avere una struttura propria, la società sta in comunione con la circosizione, sta lavorando perché si possa ben strutturare questo tipo di campo, è anche un campo limitrofo che abbiamo messo a disposizione. Sicuramente i numeri rispetto all'inizio dell'anno stanno aumentando e questo fa sì che anno dopo anno si possa aumentare il numero dei tesserati per il rugby Terni. Oggi abbiamo organizzato il torneo Santo Valentino, il sesto torneo, abbiamo ripreso dopo un'interruzione di un anno e praticamente l'abbiamo organizzato nel nuovo campo del Terni Rugby che è presso Borgorivo, il campo dell'associazione Maroso con cui collaboriamo e la nostra volontà è cercare di far crescere questo movimento del rugby, questo sport del rugby che a Terni è nato nel 2007 e sta avendo sempre più consenso. Noi ce la mettiamo tutta, speriamo che il nostro impegno non vada avanti, ecco tutto qua.